Presunta evasione d'imposta mediante l'omessa presentazione delle prescritte dichiarazioni dei redditi e dell'IVA per il triennio 2018-2020. Oltre 12 milioni di euro, questa la cifra relativa al volume delle vendite sottratte al fisco secondo l'attività ispettiva eseguita attraverso anche dei controlli incrociati da parte della Guardia di Finanza nissena. È stata conclusa infatti nei giorni scorsi dai finanzieri del gruppo Caltanisset un'articolata attività di ispezione tributaria nei confronti di un'azienda. Il cui amministratore, un cittadino asiatico che opera nelle province di Caltanisset e Catania, esercita il commercio all'ingrosso di prodotti casalinghi. Le fiamme gialle di Caltanisset proseguono nel loro impegno a tutela della legalità e della concorrenza, si legge nel comunicato, assicurando il giusto apporto da parte di tutti i contribuenti alle entrate dello Stato che consentono la puntuale erogazione dei servizi pubblici.